credo che possiamo cominciare allora io e antonio clericuzio diamo il benvenuto ai presenti per l'ultimo seminario della nostra strepitosa serie di sull'astrologia rinascimentale sui anche sugli aspetti filosofici abbiamo il piacere di avere con noi Giuliano Mori valentissimo ancorché giovanissimo e docente di storia della filosofia giusto tu sei adesso a Milano ma viene dalla normale di Pisa poi ha studiato a Milano ha studiato è stato a Princeton al centro degli advanced studies dove stava Einstein tanto per capirci e poi è stato anche a Harvard ai tatti che è un po' la mecca degli studiosi di rinascimento e adesso è tornato all'ovile a Milano dove insegna da qualche anno allora Giuliano tra i suoi interessi ha anche appunto Lorenzo Valla di cui ci parlerà oggi in particolare delle interpretazioni quattrocentesche del famoso famosissimo dialogo del libero arbitrio di Valla che ancora Leibniz definiva un capolavoro filosofico allora il format è sempre lo stesso Giuliano parlerà 50 minuti più o meno e anche un pochino di più anche un pochino di meno e poi faremo una discussione libera allora prego Giuliano benissimo allora vi ringrazio per questo invito che mi fa molto piacere e come si diceva parliamo del libero arbitrio di Lorenzo Valla che è un'opera per molti versi emblematica emblematica per quanto riguarda la filosofia del rinascimento la discussione rinascimentale sui temi di libero arbitrio determinismo volontà crescenza divina predestinazione emblematica a questo proposito proprio perché ha molto poco a che fare con altre opere scritte nello stesso periodo cioè nel 400 il del libero arbitrio del 1439 su questi argomenti così come poco a che fare con opere quattrocentesche su questi argomenti molto a che fare invece con opere scritte un'ottantina d'anni più tardi il del libero arbitrio di di erasmo il del servo arbitrio di di lotero ma in qualche misura anche il defatto specialmente la seconda parte del defatto di di pomponazzi tutte opere che in qualche modo si rifaranno a valla come come vedremo ecco si tratta di un'opera emblematica direi anche per quanto riguarda il percorso filosofico di valla stesso per quanto sia un'opera che spesso viene posta in secondo piano se non decisamente evitata questa chiusa definita generalmente come aporetica se non decisamente indefinita del dialogo ecco diciamo che in termini molto semplici questo per chi non conoscesse o non ricordasse il del libero arbitrio si tratta di un dialogo tra un interlocutore chiamato lorenzo che possiamo assumere sia l'alter ego di lorenzo valla è un antonio glarea spagnolo appartenente al al milieu della della corte aragonese dove valla si trovava e in quegli anni lorenzo come quasi tutte le sue fonti i suoi contemporanei che difendono il libero arbitrio prende l'esistenza del libero arbitrio come un dato di fatto come qualcosa che bisogna analizzare ma non che bisogna giustificare e da questo punto di vista inizia a discutere il problema della relazione tra libero arbitrio e prescenza divina in poche parole se dio ha una conoscenza certa delle nostre azioni future volontarie come in che misura è possibile che non le necessiti a questo punto la soluzione classica molto lodata anche da leibniz come si diceva prima ma anche da erasmo è per valla quella di distinguere totalmente prescenza divina e volontà divina sostenendo che la prescenza divina non implica in alcun modo le cose che prevede così come noi non causiamo il fatto che domani sorga il sole per quanto lo possiamo prevedere e poi aggiunge che anche la volontà divina però non necessita ciò che accadrà non necessita almeno le nostre azioni volontarie future non le necessita però in base a un principio di bontà divina che non possiamo spiegare razionalmente ma dobbiamo accettare fideisticamente e questa è di fatto la parte distruttiva del delibero arbitrio che si scaglia contro boezio in particolare contro quello che valla intende come un'eccessiva tendenza razionalistica nella filosofia boeziana e poi scolastica che porta a non dare quelle che secondo lui sono delle spiegazioni valide o una maniera valida di trattare argomenti come la volontà di dio o il libero arbitrio ecco di fatto nonostante questo attacco alla filosofia di boezio e alle spiegazioni razionali valla poi inizia o propone una spiegazione razionale lui stesso della relazione tra libero arbitrio e prescenza divina questa spiegazione si conclude poi in una chiusa di carattere assolutamente fideistico appunto dobbiamo credere al libero arbitrio dobbiamo credere che la volontà divina non impedisca il libero arbitrio e dobbiamo credere che questo avvenga per la bontà di dio ora quello che è interessante di questa chiusa fideistica poetica se vogliamo e quello che in qualche modo può anche fare sorgere in noi un certo sospetto a questo proposito è che praticamente nessuno ci crede sin dall'inizio in ambienti ecclesiastici questa che valla definiva una conclusione santissima è guardata con sospetto praticamente da tutti nel 44 il delibero arbitrio fornisce alcune alcuni indici per i quali valla viene inquisito anche se l'inquisizione di valla era motivata in primo luogo da ragioni di antipatia di antipatia personale queste queste ragioni su cui insistono gli inquisitori vengono poi riprese contro valla da bracciolini che scriverà delle orazioni antivagliane nei primi anni 50 e nel 500 il delibero arbitrio finisce all'indice dei libri proibiti all'indice tridentino e la cosa interessante è che ci finisce insieme ad altre tre opere di valla cioè il devolutat l'annotazione sinnovum testamentum e l'oratio contro la donazione di costantino quello che è interessante è che però tra queste opere messe all'indice il delibero arbitrio è l'unico che apparentemente non presenti alcun elemento chiaramente eterodosso quindi ancora una maggiore ragione per vedere un sospetto da parte di ambienti ecclesiastici in verso verso quest'opera in altri casi valla viene sospettato invece per un anteggiamento scettico pirroniano Puntano per esempio dirà che valla il valla della dialettica ma anche il valla del delibero arbitrio non vuole prendere una posizione perché di fatto non crede a nessuna posizione che anzi il suo pirronismo avrebbe in qualche modo influenzato o ispirato l'attacco antiastrologico di Pico Infine la maggior parte dei lettori del delibero arbitrio e questo è specialmente interessante prendono il delibero arbitrio di valla esattamente per il contrario di quello che valla continua ad affermare Non è un'opera deterministica che nega il delibero arbitrio e insiste invece sulla predestinazione Non è un caso che il delibero arbitrio abbia un'enorme influenza e circolazione in ambienti riformati nel primo cinquecento Tutti i dodici manoscritti che abbiamo a disposizione che trasmettono la tradizione del delibero arbitrio sono di area tedesca o fiamminga Melantone è uno dei primi a parlare entusiasticamente di valla nei loci comuni del 1521 che si aprivano con un capitolo sul libero arbitrio In cui valla viene lodato per avere introdotto in filosofia la dottrina della predestinazione in senso riformato Erasmo nel 24 E questo è interessante invece di citare valla come una possibile fonte a favore della sua teoria cioè del libero arbitrio cita valla come uno dei pochissimi casi che avrebbero dato ragione a Lutero Dice che tra i pochi a pensarla come Lutero erano mani Wycliffe e valla che vengono uniti Erasmo aggiunge più o meno pensano la stessa cosa Lutero che nelle sue lettere continua a lodare valla che chiama bonus autore bonus cristianus riprende ovviamente il parere di Erasmo con il quale è almeno su questo punto d'accordo E aggiunge una cosa interessante cioè che non erano solo Wycliffe, Valla e Mani dalla sua parte ma anche Agostino il quale viene implicitamente avvicinato a valla almeno per quanto riguarda questa dottrina del libero arbitrio Questo è interessante lo vedremo più tardi proprio perché anche una fetta della critica ha insistito su una vicinanza tra Valla e Agostino Vicinanza che io credo non sussistere affatto e vedremo perché anche perché Valla esplicitamente si esprime contro posizioni agostiniane per quanto ne mantenga a volte la forma retorica Ecco in questo volo ad uccello sulla fortuna riformata di Valla arriviamo fino a Calvino che loda Valla per la sua analisi di provvidenza, predestinazione e prescienza divina E in qualche modo negli stessi anni una interpretazione in senso deterministico di Valla può essere stata anche data da Pomponazzi Non è certissimo che Pomponazzi abbia letto il delibero arbitrio di Valla anche se è stato suggerito sia così e anche a me sembra molto probabile E mi sembra in particolar modo possibile che Valla sia stato utile a Pomponazzi nel moderare quelle sue posizioni aristotelico-stoiche assolutamente deterministiche dei primi libri del De Fatto Che vengono in qualche modo piegate e moderati in termini più o meno ortodossi nella seconda parte del De Fatto E si tratta di una metamorfosi che in qualche modo può avere una sua base in Valla Queste oscillazioni nell'interpretazione di Valla che quindi ci devono in qualche modo instillare un qualche sospetto rispetto al contenuto del delibero arbitrio Si riflettono anche nella critica contemporanea che per lo più come diciamo ha cercato di evitare il problema non menzionando il delibero arbitrio o menzionandolo en passant Quando si parlava invece del De Verobono l'altra opera eminentemente filosofica di Valla Tra coloro che hanno parlato esplicitamente del delibero arbitrio alcuni hanno insistito sulla soluzione fideistica aporetica vagliana Credendo quindi un po' a quella conclusione a cui nessuno sembrava credere almeno fino a tempi molto recenti E altri hanno invece ripreso la spiegazione riformata cioè hanno visto nel delibero arbitrio un'opera assolutamente deterministica contro la libertà dell'arbitrio e via dicendo Ecco a questo punto dobbiamo chiederci quale siano le ragioni di queste oscillazioni e se sia possibile suggerire delle soluzioni E possiamo rivedere alcuni punti del dialogo che possono chiarire alcuni aspetti e possono chiarire le ragioni di queste oscillazioni nell'interpretazione del delibero arbitrio In primo luogo dicevamo il dialogo si apre con un attacco a Boezio specialmente con un attacco al quinto libro della De Consolazione e Filosofie di Boezio In cui appunto si risolveva secondo Valla razionalisticamente il problema della relazione tra libertà prescenza e onnipotenza divina E il dialogo si apre con Antonio l'interlocutore di Valla che chiede a Lorenzo di chiarirgli alcuni dubbi sulla relazione appunto tra libero arbitrio e prescenza divina Valla accetta e accetta in una forma retorica interessante sulla quale torneremo perché accetta solo a patto che si parli solamente di questa questione e che non si passi poi a parlare di qualcos'altro E dice nelle parole di Lorenzo che si rivolge ad Antonio Voglio che tu mi faccia una promessa che se ti avrò lautamente convitato a questo pranzo non vorrai essere invitato anche a cena Desidero che ti accontenti della discussione di questa sola questione e non se ne aggiunga poi un'altra Quindi fin da subito si mettono le mani avanti Parleremo solamente di una cosa, parleremo solamente della relazione tra libero arbitrio e prescenza Si apre così una prima parte del dialogo Abbastanza tradizionale Nella quale Antonio propone dubbi abbastanza tradizionali Sull'argomento Specialmente sulla questione dei futuri contingenti E Valla risponde in maniera abbastanza tradizionale Difendendo il libero arbitrio Difendendo il fatto che la prescenza divina non impedisse di fatto il libero arbitrio Tutto il discorso appunto segue come dicevamo una linea piuttosto tradizionale Per quanto ci siano degli elementi non privi di originalità in Valla Ciò che conta è che a un certo punto si arriva a una Seconda parte del dialogo Che viene divisa, distinta dalla prima parte in maniera molto netta Lorenzo dice Le cose che ho detto finora Cioè contro le obiezioni di Antonio Non erano quelle che avevo in animo di dire Ma piuttosto quelle che richiedeva la necessità della difesa Cioè della difesa del libero arbitrio contro le obiezioni Senti ora che cosa mi persuade a ritenere che la prescenza non impedisca il libero arbitrio Ecco quello che persuade Lorenzo È un discorso Su prescenza divina Volontà divina e libero arbitrio Che viene sviluppato Grazie a un dialogo fittizio Tra Sesto Tarquinio L'erede di Tarquinio Superbo L'ultimo re di Roma Colui che avrebbe stuprato Lucrezia Poi cacciato da Roma In qualche modo portando dunque Alla Repubblica Romana E Apollo 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 Delfico Apollo che prevede le azioni di Sesto E gli propone un oracolo In questo caso assolutamente Assolutamente preoccupante Sesto si lamenta con Apollo Per l'oracolo che gli ha dato E inizia a esporre alcuni punti critici Anche questo è interessante perché Tutto questo dialogo poteva forse avere una fonte nel defatto di Alessandro di Afrodisi Specialmente nel 31esimo capitolo dove Alessandro immaginava un dialogo di questo tipo in funzione antistoica Preferendo alla fine gli epicurei agli stoici Cosa non secondaria per Valla come vedremo Ad ogni modo nel delibero arbitrio Il dialogo si sviluppa in questa maniera Apollo per rispondere alle obiezioni di Sesto dice Io conosco i fatti Non li stabilisco Posso annunciare la fortuna Non mutarle Accusa se credi Giove E Sesto gli risponde Ma perché Giove è tanto iniquo Tanto crudele da segnare fatti così tristi A me incolpevole Innocente adoratore degli idee Quindi da un lato Apollo la prescienza Che non necessita Dall'altro Giove La volontà che invece crea le cose Quindi Sesto Apollo dice Sesto Lamentati piuttosto con Giove Se credi E di fronte alle lamentelle ulteriori di Sesto Apollo ricorda però anche a Sesto Che le sue azioni sono di fatto azioni Di cui è responsabile Sono peccati veri E gli dice In colpevole e innocente ti dici O Sesto Non errare I dilitti di cui ti macchierai Sono vere colpevolezze Adulteri Tradimenti Spergiuri La superbia in te Quasi un vizio ereditario Facendo riferimento ovviamente A Tarquinio il superbo E poi aggiunge Un ulteriore paragrafo A proposito di Giove Un paragrafo di un'importanza cruciale Forse il più importante Nel delibero arbitrio Sul quale torneremo Dove Apollo dice Giove come ha creato rapace il lupo Timida la lepre Coraggioso il leone Così ad un uomo ha formato un animo duro Ad un altro tene Ha generato uno più propenso alle scelleratezze L'altro alla virtù A te ha dato un animo malvagio e non emendabile Con nessuna fatica Anche tu quindi secondo la tua natura Agirai malvagiamente E Giove per ciò che farai ed opererai Ti punirà Naturalmente a questo punto Antonio L'interlocutore di Lorenzo Solleva dei dubbi a sua volta In primo luogo fa notare a Lorenzo Che tutto questo dialogo tra Apollo e Sesto In qualche modo scusa Apollo Ma in colpa ancora più Giove Cioè scusa la prescenza Ma accusa la volontà di Dio E quindi segue Antonio Dicendo che Lorenzo l'ha ricacciato Nello stesso dubbio dal quale era partito Insomma se il primo dubbio di Antonio Era quello di una prescenza divina Che impedisce il libero arbitrio Si è arrivati a una soluzione In cui non è la prescenza Ma la volontà divina In impedire il libero arbitrio Come spiega dunque Lorenzo tutto questo Ecco Lorenzo si rifiuta di rispondere Rifiuta di rispondere E riprende quella metafora Del pranzo e della cena Che abbiamo visto poco fa E dice Questo non è stare ai patti Né accontentarsi del pranzo Ma chiedere anche la cena Poiché vedevo dove questa ricerca Sarebbe andata a parare Mi sono cautelato in tempo E ti ho costretto a fare la promessa Affinché poi non pretendessi da me Qualche altra cosa Oltre a quello soltanto che si cercava Quindi Lorenzo si era preventivato L'ha fatto in maniera da evitare Di dover parlare di qualcosa Che non vuole discutere Questo qualcosa è apparentemente La relazione tra la volontà divina E il libero arbitrio Vedremo poi se è effettivamente così E sempre apparentemente Lorenzo non vuole discutere Della relazione tra volontà divina E libero arbitrio Perché questo argomento È al di là delle possibilità Di una discussione razionale Ricade nell'ambito della pura fede Segue a questo punto La chiusura fideistica Di cui parlavamo In cui si riprende L'appello fideistico Di Paolo nella lettera ai Romani Ma non si riprende invece Tutto il contenuto di Paolo Della lettera ai Romani Il contenuto che era quello Che poi ritornava nel secondo Agostino Ritornava in Lutero E nella filosofia riformata Paolo rapito fino al terzo accello Non è in grado di dare una spiegazione Rispetto alla ragione Per cui Dio debba indurire Qualcuno e avere comprensione Di un altro E quindi noi non possiamo Ricercarne la ragione Razionalmente come fa Boelzi A questo punto Valla introduce un ulteriore chiarimento In questa sua chiusa fideistica Chiarimento che è tratto Dalla questione 23 Della prima parte Della Suma Teologia di Tommaso Cioè la questione sulla predestinazione Che Valla sostanzialmente Riprende quasi parola per parola Quando dice Non si dice che il libero arbitrio Sia ostacolato dalla volontà di Dio Allo stesso modo che dalla prescenza Come può Dio essere buono Se toglie la libertà al libero arbitrio Egli non necessita affatto Né ci priva del libero arbitrio Indurando l'uno Perdonando l'altro Poiché fa questo Sapientissimamente E santissimamente Quindi La prescenza Non impedisce il libero arbitrio Per le ragioni Filosoficamente Argomentabili Di cui Abbiamo parlato prima E la volontà divina E la volontà divina Non impedisce il libero arbitrio Per via della bontà di Dio Che viene richiamata Attraverso Tommaso Ecco Tutto questo Ovviamente Dà conto Delle oscillazioni Nella ricezione Del libero arbitrio Di cui abbiamo parlato E ci sono Alcuni punti salienti Sui quali possiamo tornare Per cercare di fare chiarezza A questo proposto Il primo punto E quale di fatto sia Questa cena Che Valla non vuole offrire Quella che sembra essere La relazione Tra volontà E libero arbitrio Ecco Se noi riguardiamo Il delibero arbitrio Ci rendiamo conto Che di fatto Il libero arbitrio Viene salvaguardato All'interno del dialogo Dalla nozione stessa Di una natura Data da Giove a Sesto Non c'è nessun problema Per quanto riguarda La relazione Tra libero arbitrio E prescienza divina Ma neanche nessun problema Per quanto riguarda La relazione Tra libero arbitrio E volontà divina Vi ricordate Si diceva Giove Dà a Sesto Una natura Che egli non può Correggere In nessuna In nessuna maniera Però Dandogli questa natura Non necessita Alcuna deliberazione Specifica In Sesto Ossia La natura Malvagia Che Giove Dà a Sesto Delimita Le possibili Delimita L'insieme Delle possibili Deliberazioni Che Sesto Prenderà E che sono conosciute Da Apollo Però Non è necessita Non è necessita Nessuna Sesto Pecca Inevitabilmente Ma liberamente Bisogna poi Insistere Appunto Sul fatto Che si tratta Di una natura Che in nessun modo Può essere Modificata Che in nessun modo Può essere Corretta Questo lo diceva Travalla In più di un'occasione E ci possiamo chiedere A questo punto Quale sia La natura Di cui stiamo parlando Insomma Che cos'è questa natura Che Giove Darebbe A Sesto E che lo farebbe Peccare Inevitabilmente Per quanto Libera Tra Tutte le fonti La cosa più Vicina A questa concezione Di natura Individuale Così come viene Espressa Nel dialogo Tra Apollo E Sesto E forse Una concezione Stoica Di Natura Umana O almeno Una Estensione Anche Agli atti Esterni Alla volontà Di quella Concezione Di natura Stoica Che Valla Conosceva Per esempio Attraverso Aulo Geglio Che riportava Quel notissimo Passaggio Attribuito Crisippo Su Il Il Cilindro Che rotola Giù Da Da un piano Inclinato Ve lo leggo Per ricordarvelo Là dove si dice Se tu lanci Un cilindro Di pietra Lungo un terreno Inclinato E irto Sarai tu stesso L'origine E la causa Del suo Precipitare Ma poi Quanto prima Quello rotola Precipizio Non perché Tu ne sia Ancora la causa Ma perché Esso ha in sé Per la forma E per il modo Come è fatto La predisposizione Rotolare Ebbene Allo stesso modo L'ordine razionale Necessario Del fatto Dà in là Alle cause Ma poi È la volontà Individuale Il carattere Naturale Degli animi A prendere Il controllo Degli impulsi Che derivano Dalle nostre Decisioni E dalla Nostra mente E dalle nostre azioni Molto simile Quindi Alla Alla soluzione Che propone Propone Valla Giovedà A sesto Una Natura Malvagia Detto questo È La natura All'interno Delle deliberazioni Delimitate Da questa natura Malvagia È la volontà La natura Di sesto A scegliere Liberamente Come peccare Ci rendiamo conto Anche sulla scorta Di interpretazioni O declinazioni Agostiniane Di questo Di questo Tema A questo punto Di quale fosse La ragione Della fortuna Del delibero Arbitrio Inteso In senso Deterministico Specialmente In ambito In ambito Riformato E anche Quale potesse Essere La sua Influenza Su Pomponazzi Ecco Se tutto Questo Salva Almeno In senso Relativo Il libero Arbitrio Il problema È che si sposta In maniera Ancora più grave L'accusa Nei confronti Di Dio E specialmente Si sposta Il problema Sulla Bontà Di Dio Insomma In quale maniera Può essere Buono Un Dio Che dà Alle sue Creature Una natura Malvagia Che li Obbliga A peccare Inevitabilmente Per quanto Liberamente Un Dio Che poi Punisce Quegli uomini Per avere Peccato Inevitabilmente Si spiega A questo punto Perché La soluzione Fideistica Del Delibero Arbitrio Debba insistere Così tanto Sulla Bontà Di Dio Invece Che insistere Sul problema Della relazione Tra Volontà E libero Arbitrio Ecco Questo Problema Problema Di Teodicea Essenzialmente Poteva Ricevere Varie Soluzioni E avrebbe Ricevuto Come sappiamo Varie soluzioni La prima Soluzione È Proprio Quella Di Leibniz Leibniz Che Loda Il delibero Arbitrio Di Valla Nei saggi Di Teodicea E Tuttavia Critica Valla Per avere Lasciato Irrisolto Proprio Il problema Della Della Bontà Di Dio Ecco Leibniz È uno Dei primi A capire Immediatamente Che il problema Del delibero Arbitrio Di Valla Non è affatto Il libero Arbitrio Ma la bontà Di Dio E quindi Cosa fa Prosegue Il discorso Il dialogo Tra Sesto E Apollo E lo conclude In maniera Da risolvere Il problema Lasciato Secondo Leibniz Risolto Da Valla Giustificando La bontà Di Dio In termini Di Della teoria Del migliore Dei mondi Possibili Altra possibile Soluzione Era quella Sviluppata Sulla scorta Da Agostino Da Lutero E da tutto L'ambiente Della filosofia Riformata Del primo Cinquecento Cioè Dio Giustamente E quindi In maniera Buona Punisce Gli uomini La cui Natura È depravata E corrotta Dal peccato Originale Semmai Quello che Dobbiamo Spiegarci E perché Incomprensibilmente Dio ne salvi Qualcuno Attraverso Attraverso La grazia Ecco Entrambe Queste soluzioni Quella Luterana E quella Diciamo Leibniziana Che poteva essere Anche declinata In senso Stoico In termini Di perfezione Complessiva Dell'universo Entrambe Queste soluzioni Non lasciano Alcuna O almeno Non lasciano Non si possono Prevedere In alcuna maniera A partire Dal Delibera Arbitra Anzi Valla In qualche Modo Esclude Perfino La più Vicina Delle due Soluzioni Apparentemente Cioè Quella Luterana Perché Va Contro I presupposti Agostiniani Di quella Stessa Soluzione Alla fine Del Delibera Arbitrio Lorenzo Dice In Adamo Non è stata Mutata La materia Argentea Ma è restata La stessa Di prima Quindi Qual è stata In lui Tale In noi Dio Infatti Per il Peccato Del primo Parente Nel quale Tutti Abbiamo Peccato Aveva Posto In noi La pena Della Morte Non La colpa Che viene Dall'induramento E' chiaro Che Di fronte A una Simile Premessa La soluzione Diciamo Agostiniana Luterana Per quanto Riguarda La giustificazione Della bontà Di Dio E' messa Assolutamente Fuori Fuori C Ecco Se Allora Non c'è Spazio Per una Soluzione Né in termini Stoico Leibniziani Né in termini Agostiniano Luterani Ci possiamo Credere Fino a che punto Sia effettivamente Convincente La soluzione O Pseudo Soluzione Che Valla Dà Il problema Che è la sua Soluzione Paolina Anche se Paolina Nella forma Più che Nel contenuto E' Fideistica La soluzione Di cui Parlavamo Prima Ecco Ci sono Alcuni Problemi Che Militano Contro Questa Soluzione In primo Luogo Come Vedevamo La soluzione Fideistica Di Valla Appoggia Su Una Ripresa Di elementi Derivanti Da Tommaso Elementi Che rappresentano Proprio Quell'approccio Razionale O Razionalistico Che Valla La critica Nel Delibero Arbitrio E che Vengono Tra l'altro Da Tommaso Il quale E' Uno Dei Preferiti Obiettivi Polemici Di Valla Perfino Quando Alla fine Della sua Vita Valla Sarà Sostanzialmente Obbligato A scrivere Un Encomium Di Tommaso Non riuscirà Quasi A trattenersi E scriverà Un Encomium Che altro Non è che una Critica Un pochino Edulcorata Della filosofia Tomistica Di Tommaso Stesso Ecco Se questo Elemento Già Ci può Fare Sospettare Della Onestà Di questa Chiusa Fideistica Vagliana C'è poi Un elemento Molto più Forte Ossia Il fatto Che Quest'idea Di una Natura Malvagia Data Da Giove A Sesto Una natura Ineluttabile Una natura Di cui abbiamo Parlato E' Apertamente In contrasto Con il De vero Bono Di Valla Cioè Con l'opera Una Tra le Primissime Opere Filosofiche Di Valla Che Valla Rivede Per tutta La vita E Che critica Principalmente Proprio Questa Visione Tessimistica Agostiniana Di una Natura Umana Tesa Al male Tesa Al peccato Nozione Che viene Criticata Da Valla Lo vedremo Sotto Il cappello Dello Stoicismo Ecco Questa Contradizione Tra Delibero Arbitrio E De Vero Bono Si fa Ancora Più Forte Se noi Consideriamo Che il Delibero Arbitrio Viene Proposto Da Valla Come una Continuazione Del De Vero Bono All'Inizio All'Inizio Del Dialogo Per In quale Misura Il Delibero Arbitrio Può Continuare Il De Vero Bono Quando Dice Esattamente Il Contrario Quando Almeno Presuppone Una Natura Umana Che Esattamente Il Contrario Di Quella Presupposta Dal De Vero Bono Possiamo Allora Confrontare Il Concetto Di Natura Umana Che Emerge Nel Delibero Arbitrio Con Quello Che Emerge Nel De Vero Bono Come Dicevamo Il De Vero Bono È Un Dialogo Diviso In Tre Libri Il Primo Libro È Quello In cui Viene Presentata La Posizione Stoica Per Voce Di Catone Sacco Nella Seconda Versione Del Dialogo Posizione Stoica Che È Di Tanto Riguardo Almeno La Natura Umana Una Posizione Agostiniana Catone Sacco Dice Noi Abbiamo Succhiato Con Latte Materno L'amore Dei Vizi Questo Se Vogliamo Riconoscere Il Vero Non Va Imputato A Noi Ma Vizio Di Natura Costringi Il Pripistrello A Preferire La Luce Alle Tenebre Aspetta Che Il Leone Spontaneamente Si Ammansisca Così Vediamo Moltissimi Uomini Amanti Della Scelleratezza E Della Turpitudine Non Perché I Vizi Siano Buoni Ma Perché Depravata La Natura Stessa Quindi Al cuore Di Questo Primo Libro L'idea Di Una Natura Depravata Sia In senso Generale Cioè Una Providenza Cattiva Che Dà Agli Uomini Nature Che In senso Particolare Sono A loro Volta Malvagie In quanto Tese Al male Tese Al vizio Questa Prospettiva Radicalmente Scusate Radicalmente Rifiutata Da Valla Nel Secondo E Nel Terzo Libro Che Conclude Il De Verobono Che Espongono La Posizione Rispettivamente Epicurea Rappresentata Da Maffeo Veggio E Quella Cristiana Epicurea Rappresentata Da Antonio Darò Antonio Raudez Ecco L'Epicureo E il Cristiano Da questo Punto Di Vista Sono In Perfetto Accordo Entrambi Rifiutano La Posizione Pessimistica Di Catone Sacco E Ancora Più Importante Entrambi Rifiutano L'idea Di Una Natura Malvagia Sia A livello Generale Cioè In termini Di Providenza Naturale O Divina Sia In termini Particolari Cioè Nel senso Di una Natura Umana Di nature Umane Individuali Che Loro Invece Ritengono Essere Volta Al Bene In Questo Caso La Voluptas E L'Epicureo Maffeo Veggio Dice Nel Secondo Libro Del De Verobono Riferendosi A Catone Sacco Avrei preferito Che ti fossi risparmiato Questa duplice accusa Alla natura E agli uomini Poiché Codesta Giustificazione Che la Viziosità Degli uomini Viene Dalla natura Incrimina Piuttosto Costei Che non Scusa Quelli Sostanzialmente La stessa Obiezione Portata Da Antonio A Lorenzo Nel Deliber Arbitrio Cioè Il dialogo Tra Apollo E Sesto Finisce Per accusare Giove Pur Scusando Apollo L'Epicureo Continua Ciò che la natura Ha fatto E formato Non può che essere Santo e lodevole Come questo cielo Che si evolve Sopra di noi Nulla puoi trovare Che non sia Come ho detto Compiuto Ordinato Ornato Con la massima Razionalità O bellezza O unità Principio Anche questo Che in termini Cristiani Viene Tradotto Con l'idea Che L'uomo Creatura Di Dio In quanto Creatura Di Dio Non possa Che essere Buona Creatura Buona Tra l'altro Tesi Che veniva Espressa Da Erasmo Contro Lutero Nel Delibero Arbitrio Al quale Lutero Faceva Notare Che Quei versetti Della Genesi Su Dio Che osserva Le sue Creature Vede Che sono Buone Si riferiscono A un uomo Prima Del peccato Originale E' Interessante Però Che avendo Valla Escluso Una differenza Tra la natura Di Adamo E la natura Della progenie Di Adamo Tutta questa Distinzione Luterana Perde assolutamente Di peso Arrivando al terzo Libro Del De Verobono In cui Si tira le somme In senso cristiano Del pensiero Epicureo Espresso Da Matteo Mafeo Veggio Raudenze Dice Io affermo Che dalle origini Umane Non c'è stato Alcuno Che abbia Desiderato E guardato Con gioia Non dico Il proprio Ma neppure Il male Degli altri Basta Che la volontà Dell'uomo Sia spontaneamente Propensa Al bene Come gli occhi A vedere La luce E se qualche volta Non ce la fanno La causa Sta nel fatto Che essi Non hanno vigore Però la colpa Di ciò Non va attribuita Alla natura Ma ai peccatori Stessi Poiché Da natura Essi furono Conformati All'onestà Quindi Quello Su cui L'epicureo E il cristiano Vanno d'accordo È l'idea Di una natura Umana Intrinsecamente Buona Tesa al bene Bene Che in questo Caso È la voluptasi Il piacere Che poi Cristiano E picureo Intendono In maniere Leggermente Diverse Cioè Come Voluptas Terrestre O Ultraterrene Ciò che conta Però È che La loro Analisi Della natura Individuale Degli uomini Della natura Generale Della providenza Naturale O di dio E Della Voluptas O del piacere A cui la volontà Tende È sostanzialmente Identica Ed è identica Anche la prospettiva Che Valla propone Nella sua Dialettica A cui lavora Negli stessi anni In cui scrive Il delibero arbitrio Dove si dice Che la volontà La volontà Dell'uomo È Abitata Da due Passioni Che sono La voluptas E la molestia Per quanto riguarda Il presente Due passioni Che poi si traducono Per quanto riguarda Il futuro In cupiditas E timor Ecco Questa volontà Che in ognuno Di noi Che Valla Prende come dato Di fatto Cerca Naturalmente De naturalmente Tesa Alla voluptas E Allo stesso Maniera Naturalmente Fugge La molestia La fonte Poi Da cui emana La voluptas Nonché Il grado Più alto Di voluptas È Dio Per cui Anche la voluptas Si intende Nella dialettica Altro non può essere Che buona Almeno Almeno Presa In sé Ecco Come nel De vero buono Allora anche Nella dialettica Quindi nelle due maggiori opere Filosofiche Di Valla Gli uomini Hanno una natura Buona Che si esprime Nel fatto che La loro volontà È naturalmente Tesa Al bene Che in sé È buono Cioè Alla voluptas Che in sé È buona Sia voluptas Verso Se stessi Sia voluptas Nei confronti Degli altri Questo non significa Che non ci si possa Sbagliare Che non si possa Peccare Valla dice Nella dialettica La volontà Può errare Quando viene Offuscata Da Altre passioni Che non sono La voluptas E la molestia Altre passioni Che possono essere L'odio Per esempio Oppure I turbamenti Del corpo In questo caso La volontà Non vede Che a quello Che potremmo chiamare Una voluptas Minore Segue di fatto Una molestia Maggiore E quindi Sceglie male Pecca Si crea così Il vizio Ecco Sulla scorta Di tutto ciò E mi avvio Alla conclusione Ci possiamo chiedere Se è possibile Dare un'interpretazione Diversa E auspicabilmente Più convincente Della chiusa Fideistica Vagliana Cioè Come possiamo Risolvere Quel problema Di Sesto Tarquinio Che abbiamo visto Si declinava Come un problema Come un problema Di Teodicea E' ovvio Che se leggiamo Il De Libero Orbitrio Sulla scorta Delle opere Filosofiche Di Valla Di cui abbiamo Parlato Del De Verobono Della dialettica In nessuna maniera Giove Può dare A Sesto Una natura malvata Quindi La soluzione Al problema E' Molto più radicale Se la vediamo In termini Di un fideismo Non Pseudo Paolino Come quello Del De Libero Arbitrio Ma di un fideismo Epicureo Il problema Non c'è Perché la natura Individuale Di tutti E' buona E perché Dio Non può Dare O almeno Non ricade Nella potenza Ordinata Di Dio Dare Nature Che non siano Buone Ossia Che non siano Tese Alla Voluptas Al bene Perché Allora Sesto Pecca Sesto Pecca Perché La sua Libera Volontà E' Offuscata Da altri Sentimenti Per esempio In questo Caso La superbia Che come Leggevamo E' In Sesto Un vizio Quasi Ereditare Dicevamo Si tratta Di una Soluzione Radicale Ai problemi Di cui Abbiamo Parlato Che ha Il merito Di andare D'accordo Con il resto Della filosofia Di Valla Invece Che isolare Il delibero Arbitrio Come Caso a sé E per Per concludere Ci possiamo Chiedere Quale sia A questo Punto La ragione Per cui Valla Non ha Di fatto Proposto Questa Soluzione Ma ha Proposto La sua Soluzione Fideistica Pseudo Pauli Ecco In primo luogo C'è Una Considerazione Di ordine Brutalmente Cronologico Cioè La Discussione Sulla Teodicea Sui problemi Legati A Tutta Questa Discussione Non era Nel 1439 Ancora Sufficientemente Matura Per Una Soluzione Filosofica Di questo Tipo Sarebbe Maturata All'inizio Del Cinquecento Una Seconda Osservazione Che non Per forza Esclude Questa Prima Di cui Abbiamo Parlato E Ho a che fare Con le Reazioni Piuttosto Tiepide Nei confronti Del De vero Bono Che viene Inviato Nella sua Prima Versione De volutate Da valla Ad amici Attraversari A marsupini Tutti Lo ricevono Bene Ma in qualche Modo Sono molto Prudenti Perché vedono Il problema In termini Di ortodossia Che può Nascere Da quella Visione Di epicureismo Benché Cristiano Di valla Tant'è che Poi anche Il de volutate Finirà L'indice Insieme Del libero Arbitrio E via Di c'è Ecco L'ultima Soluzione E con questo Concludo Scusatemi O l'ultima Possibile Soluzione Alla domanda Su perché Valla Non abbia Presentato In termini Fideistici Epicurei La chiusa Del delibero Arbitrio Ha a che fare Con un rischio Che in valla In qualche modo Si evince Sia dal De vero bono Che da altre opere Ma che Viene rappresentato Pienamente Più tardi Da Machiavelli Per quanto Sulle stesse Premesse Sulle stesse Basi Epicurei Che è un rischio Di relativizzazione Etica Assoluta Il piacere La voluptas Che viene da Dio È in sé Bene Sempre Solamente L'uso Che se ne fa Può essere cattivo Nel De vero bono Si dice La natura Ha offerto Ai mortali Moltissimi beni Spetta a noi Saper farne Buon uso Questa varietà Di condizioni Che si trova Nella realtà Verrà piegata Al piacere È ovvio Quindi che Il principio Regolativo Dell'etica E della distinzione Tra quello Che è Vero Bene Vera Voluptas È allora Un principio Utilitaristico E relativistico Che Slega La morale Da un codice Preciso Quali possono essere I comandamenti Mosaici O la legge Della B Questo Relativismo Utilitaristico Investe anche Le virtù Cristiane Per esempio Valla dice Sempre nel De vero bono Che bisogno C'è di astinenza Di frugalità Di continenza Se non in quanto Si riferiscono A certe utilità Insomma Se manca Un riscontro Che può essere La salvezza La salvezza Eterna Rispetto A virtù O quelle che i cristiani Chiamano virtù Come l'astinenza La frugalità E via dicendo Queste non sono Più Vero bono Quindi Non sono Voluptas Non sono Ricercate Della natura Buona Degli uomini A questo proposito Proprio perciò Valla rifiuta Anche l'idea Di una virtù Come giusto mezzo Idea aristotelica Che valla rifiuta Perché dice In base Alle Occasioni In base Alla Situazione È possibile Che gli eccessi Siano più virtuosi Del giusto mezzo Ecco Qual è il problema Allora E con questo Concludo Il problema È che Questo rischio Di relativismo Etico Utilitaristico In qualche modo Implicito Nella soluzione Fideistica Epicurea Che abbiamo Proposto È un rischio Ancora più grave Di quello Machiavelliano Perché non investe Semplicemente Il bene Ricercato E operato Dagli uomini Ma Come si comprende Dal discorso Tra Apollo Giove Sesto Investe Anche il bene Operato Da Dio In qualche modo Se noi diamo Questa soluzione O spieghiamo In questo senso La chiusa Fideistica Di Valla Ne segue Che Dio Nell'operare Il bene Obbedisce A un principio Utilitaristico E in qualche modo Viene determinato Dalla varietà Delle occasioni Che si danno Nella natura Che lui stesso Crea Soluzione Quindi teologicamente Assolutamente Inaccettabile E con questo Vi ringrazio Grazie moltissimo Giuliano Bellissima lezione Ci hai detto Tantissime cose Dirò due Tre osservazioni Primo che Per quanto Suonasse Bizzarra La conclusione Aporetica Di Di Valla Allora In verità Poi è diventata Abbastanza Fortunata Se pensiamo Per esempio A Dubois-Remont Perché Dubois-Remont È un misteriano Certo Naturalizza Il libero arbitrio Però La soluzione È simile A quella Di Letteralmente Simile A quella Di Valla Valla conclude Il dialogo Dicendo Con Lorenzo E dice Antonio Ma di che Ti cruci Che non risolviamo Il problema Se sai Che nessuno Mai l'ha risolto La stessa cosa Dice Dubois-Remont E la stessa cosa Dice oggi Il massimo Esperto Del dibattito Sul libero arbitrio Che conosce Valla Peraltro C'è Peter Vanningwagen Che dice Siamo di fronte A un mistero Un mistero Noi non possiamo Non credere Al libero arbitrio Il libero arbitrio È necessario Ma dall'altra parte È impossibile E nessuno Mai lo risolverà Poi Vanningwagen Aggiunge Che non risolveremo Mai Perché come specie Non siamo Abbastanza intelligenti Però in fondo Il problema Di Di Valla È lo stesso Cioè Lui conclude Dicendo Il libero arbitrio Deve esistere Però Collide con le Proprietà divine E questo è inutile Che ci facciamo Illusioni Non lo risolveremo Mai Credo che più o meno Sia questa la questione Che tra l'altro Mi sembra un bel problema Io capisco perché Desse fastidio Perché vuol dire Che con il lume naturale Noi non siamo Noi non siamo capaci Di capire In che senso Possiamo scegliere Di essere buoni Perché La conclusione La parte Della Così negativa È che in verità Forse siamo determinati Se siamo determinati Il libero arbitrio Non c'entra nulla Quindi se noi Non possiamo provare Che non è così Come facciamo a sapere Che siamo morali Quindi c'è un bel problema Teologico Teologico E anche antropologico Che si pone Questo è il primo punto Secondo Mi pare che Tutta la discussione Di Valla Si situi In un paradigma Sostanzialmente Volontaristico Il che spiega Anche la distanza Credo Sia da Tommaso Che da Leibniz Che è l'iper intellettualista Naturalmente Leibniz Tradisce come dicevi tu Molto Il nostro Amico Valla Però il punto fondamentale Mi pare Tu non hai mai citato Immagino volontariamente Oppure perché Lo ritieni un anacronismo Però Usando un po Forzando un po La terminologia A me pare Che Prendiamo l'antinomia Di Kant Che in una certa misura Somiglia al problema Di La terza La terza Antinomia L'antinomia Della libertà Nella dialettica La critica Ragion pura Kant dice Da una parte C'è un fatto E la ragione Noi siamo liberi Dall'altra è ovvio Che siamo determinati Che facciamo Kant da una soluzione Trascendentale Che ovviamente Non è disponibile Per Per il nostro Amico Però qual è il problema Di Kant Perché è impossibile Il libero arbitrio Perché lì era pieno di gente Che diceva Chi se ne importa Se siamo determinati Locke Leibniz Hume Hobbes Dicono tutti Anche se siamo determinati Possiamo essere liberi E questa sostanzialmente Poi È una tradizione Abbastanza comune Nel cristianesimo Nella scolastica Questi dicevano Vabbè Alla fine Se era natura C'è bisogno Della grazia Eccetera Eccetera Però c'è anche Il libero arbitrio Erano compatibilisti Come si dice oggi Cioè il libero arbitrio Si conciliava Con il determinismo Cosa che non può essere Per Valla Questo mi pare Cioè Valla Casomai Somiglia Alessandro da Frodisia Che comincia Questa tradizione libertaria Forse Non lo so Non l'hai mai citato Però Duns Scoto Perché Duns Scoto Asserisce il Il fatto che C'è bisogno Di indeterminismo Da qualche parte Se no il libero arbitrio Non c'è Questa mi pare L'intuizione fondante Di Valla Che lo porta a dire Non possiamo Non capiamo Non risolviamo il problema Perché da una parte Sembriamo determinati Ma dall'altra Per il libero arbitrio Che ovviamente abbiamo Ci serve L'indeterminismo E poi sullo sfondo Di questa concezione C'è Epicuro Che lui conosce bene Ovviamente No? Tu Cioè l'indeterminismo Di Epicuro Insomma a me pare Che il problema Sia questo In un quadro Che sostanzialmente Appunto è deterministico Lui vuole Un libero arbitrio Indeterministico Come lo vorrà Camp Ma nel mondo Non lo trova Per questo credo Che dica Non si trova la soluzione Ecco io Non lo so che ne pensi Ma mi è venuta Questa Questa idea Sì Allora Grazie mille Della domanda Ci sono un sacco Di punti Spero di non Dimenticare Niente A proposito Della questione Su Diciamo Chiuse Fideistiche E riprese Fideistiche E riprese Di chiuse Fideistiche In tempi Molto più Recenti Quello Che in qualche Modo È strano In Valla È quello Che in qualche Modo Ha mosso Anche la mia Riflessione Oltre al fatto Appunto Come dicevamo Che nessuno Ci crede E anche il fatto Che anche lui Stesso Non sembra Crederci Cioè Tutti gli argomenti Fideistici Portati da Valla Sono assolutamente Antibagliani Se li confrontiamo Con il resto Della sua produzione Cioè Il ricorso A quella Soluzione Tomistica Che appunto Come si diceva Prima Tra l'altro È anche Troppo Intellettualistica In termini Di relazione Tra volontà Intelletto Per Valla Su questo Ritorno Ritorno Dopo Ma anche La ripresa Di questo Fideismo Paolino Di forma Fubini Parlava Di questo Diceva Sì certo Valla Riprende Alcune Forme Retoriche Da Agostino Da Paolo Però di fatto Dice sostanzialmente Il contrario E questo Mi sembra vero Per cui mi chiedo Fino a che punto Dobbiamo davvero Credere a una soluzione In cui in qualche modo Non crede neanche L'autore E poi Certo C'è il problema Di base Sulle motivazioni Di tutto questo Come dicevi Anche tu Si tratta In effetti Almeno A livello Cronologico Di Valla E della discussione Di Valla Di soluzione Sostanzialmente Impossibile O Di Un Paragone Tra varie Soluzioni Relativamente Impossibili Tra le quali Si sceglie La migliore Valla Non dubita Mai Per neppure Un secondo Dell'esistenza Effettiva Del libero arbitrio Ogni volta Che ne parlano Prende Come Un dato Di fatto Ma come facevano Tutti Da Aristotele In avanti A parte Quelli che lo negavano E che dovevano Assumersi L'onere Della Della Dimostrazione Quello Che lui Intende Fare E appunto Semplicemente Trovare Una soluzione Più o meno Elegante Che gli permetta Di non entrare In quelli Che lui stesso Vede Dei problemi Se Si deve Davvero Tirare Fino alle somme Ultime La discussione La discussione Sul libero Arbitrio Volontà E sulla relazione Tra la libertà E la determinazione Di fatto Per cui Il tentativo Fideistico Di Valla Più che Rispondere A un atteggiamento Realmente Fideistico Come nei casi Di alcune posizioni Moderne E secondo me Semplicemente Un atteggiamento Prudenziale Rhetorico Cioè Meglio Non parlarne Lasciamo perdere E Arriviamo Fino Fino a questo punto Soltanto Poi Sulle altre questioni Che hai menzionato Su Volontarismo Intellettualismo Posizione di Valla È chiara Ma Filosoficamente Non troppo Non troppo Ben argomentata Almeno Nella dialettica Valla Valla Sostiene Che Riprende Anche in questo Una forma Ma non un contenuto Agostiniano Ritiene che L'anima Sia fatta Di Ratio Memoria E Volontas E Che Queste Tre Facoltà Esistano Insieme Senza Un ordine Gerarchico Tra di Loro Quindi Non è La Ratio A comandare Alla Volontà Anzi Valla Dice Se la Ratio Comandasse Alla Volontà Allora La Volontà Non Sbaglierebbe Mai E Proprio Perché La Volontà Comanda In Qualche Misura Se Stessa Che La Volontà Sbaglia Per Qui Questo Lo Allontana Appunto Anche Da Posizioni Più Intellettualistiche Che Potrebbero Risolvergli Dei Problemi Che In Lui Rimangono Aperti Sulla Questione Poi Delle Fonti Anche Qui Come Al Solito La Questione Intricata Scoto Potrebbe Sembrare Una Buona Soluzione Resta Di Fatto Che Tutta La Prima Parte Del Del Libero Arbitrio Cioè Quella Che Ha Che Fare Con I Futuri Contingenti E Apertamente Antiscotista E Anzi Stata Anche Interpretata Proprio Come Una Una Critica Scoto Secondo Me Arrivare Fino A Questo Eccessivo Perché Poi Che Valla Aveva Di Scoto Era Buona Ma Non Eccelsa Però L'impostazione Generale È Molto È Molto Diversa Se Non Questo Nel De Vero Bono Hai Detto No No Nella Tutta La Prima Parte Del Del Delibero Arbitrio Di Qui Appunto C'è Le Obiezioni Di Di Antonio Lorenzo A proposito Dei Futuri Contingenti E Via Dicendo Poi Su questo Punto Perché Questo È Cruciale A me Sembra Che Lui Abbia La concezione Del Libero Arbitrio Indeterministico Basato Sull'indeterminismo Cioè Libertario Come C'è La Scoto Ma Non Ha Che Pensa Che Non Sia Conciliabile Con La Natura Divina Questo È Proprio Per Questo Nasce Il Problema Mentre Scoto Gli Va Benissimo Questo Secondo Me Nasce Il Problema Proprio Da Questo Certo In Questo Senso In Questo Senso Sì È Vero Che Però Tutto Questo Lo Lascia Comunque Senza Una Soluzione Lo Lascia Con La Posizione Di Un Problema Che È Infatti Anche Interessante Alla Fine Del Dialogo Tra Apollo E Giove Lorenzo Dice Ma Sì Io Ho Distinto In Apollo E Giove Queste Due Facoltà Divine Che Non Possono Stare In Un Dio Solo Ecco Che Non Possono Stare In Un Dio Solo È Abbastanza Significativo No Poi Si Parlava Di Alessandro Certo Anche Se Visione Di Natura Di Alessandro È Diversissima Perché È L'ethos Che In Qualche Modo Può Essere Controllato Dalla Volontà Per Valla Almeno Valla Del Libero Arbitrio No Epicuro Anche Qui C'è Grande Discussione Su Che Cosa Di Epicuro Avesse Letto Valla Alcuni Sostengono Solo Quello Che Gli Veniva Da Cicerone E Via Dicendo Altri Sostengono Ha letto Cosma Raimondi Ma Non La Traduzione Né Di Lucrezio La Traduzione Di Traversale Né La Traduzione Del Decimo Libro Di Diogeno L'Aerzio Ora Secondo Me È Quasi Impossibile Che Non Conoscesse Almeno Diogeno L'Aerzio Sia Perché La Discussione Sulla Fronesis Che Fa Valla Viene Da Diogeno Nella Dialettica Sia Perché Insomma Era In Contatto Con Contraversari Gli Interlocutori Del Dialog Del De Voluptate Nella Prima Versione Sono Fiorentini Sono Niccolò Niccoli E Via Dicendo Per cui C'era Una Vicinanza Tale A Quell'ambiente Che Era Impossibile Non Circolasse Un Testo Tra L'altro Il De Voluptate Viene Mandato Attraversari Da Valla È Inconcepibile Che Un'opera Tipo Il De Voluptate Venga Mandato Uno Che Ha Diogeno L'Erzio Su Epicuro E Lui Gli Risponda Senza Dire Niente Mi Sembra Assurdo Per cui Secondo Me La Conoscenza Di Un Epicuro Relativamente Attendibile C'è Questo È Stato Anche Proposto In Passato Però Sì Resta Il Problema A proposito Dell'epicureismo E Questo È Quello Che A me Incuriosisce Che Di Fatto Nel Delibero Arbitrio Di Epicureismo Non ce n'è Neanche Traccia Se non In senso Di un Vago Volontarismo Sì Anche L'indeterminismo Sullo Sfondo Potrebbe Essere Questo L'ho citato Per questo Sia lui Sia Alessandro Per la questione Dell'indeterminismo Che mi Sembra Chiaro D'altra 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 parte Se ci Pensi Quando Lui Dice Che Bellissima Questa Cosa Che Hai Detto Non ce Ho mai Pensato Cioè Dio Non ci Determina Veramente Questo È vero Anche Per Lutero Non ci Determina Veramente Però Ci Dà La Natura Tale Che Noi Per Bene Ma Poi Anche Naturalmente Cadere Per varie Ragioni E fare Il Male Quindi È Necessaria La Natura Buona Per Fare Il Bene Però Nota Qui C'è L'indeterminismo In Questa Concezione Perché Abbiamo La Natura Tendenzialmente Siamo Buoni Però Se Scegliamo Male Cadiamo Cioè Se La Volontà È Traviata Cadiamo Quindi C'è Questo Elemento Indeterministico Molto Forte Che A Curo Questi Tre Mi Venivano Le Mette Ma Solo Per Questo Aspetto Specifico Il Problema E Secondo Me A Questo Punto Ma È Vero Che Però Questa Deve Essere Posta Allora Davvero In Termini Di Fideismo Epicureo Come Un Assunto Universale Cioè Se Uno Vuole Difendere L'indeterminismo Di Cui Parliamo Allora Non Ci Può Essere Nessuno A Cui Dio Da Una Natura Assolutamente Malvagia Perché In Questo Caso Tutto Il Problema A Cui Accennavi Prima Rimarrebbe Risolto Per Cui Dato Che Proprio Questo È L'esempio Di Cui Si Parla Nel Delibero Arbitrio Cioè Uno A Cui Apparentemente Viene Dato Una Natura Ineluttabilmente Malvagia Come Si Può Venire A Termine Con Questo Con Questo Problema È Chiaro Che Se Uno Dice Che Invece Come Si Può Desumere Dal Devero Buono La Natura Di Tutti È Esclusivamente Buona Se Mai Uno Sbaglia Per Difetto Della Sua Volontà Allora Certo Si Recupera L'indeterminismo Ma Si Recupera Anche La Bontà Di Dio Che In Questo Senso Non Viene Messa In Dubbio In Alcuna Maniera Senti Ho fatto Troppe Domande Vediamo Se Ci Sono Domande Dall'Augusto Pubblico Forse Vediamo Se Ci Sono Io Posso Andare A Iosa Ma Vediamo Antonio Forse La Discussione Un po Verso L'astrologia Che C'aveva Un po All'inizio E Vorrei Richiamare Quello Che Ave Detto All'inizio Ovvero Sia L'uso Che Fa Pico Del Delle Concezioni Vagliane Nei suoi Attacchi All'astrologia Attacchi Abbiamo Già Visto Essere Ambigue Nel Senza Una Certa Astrologia Viene Confutata Ma Non L'astrologia In quanto Tale Poi In fondo La fine Questa Natura E Gli astri Inclinant Non Ne Essessi Tanta La fine C'è Un Parallelo Con Quanto Si Andrà Dicendo In Altri Ambienti Su Altre Basi Ma A proposito Del Determinismo Astrale Dei Forti Limiti Del Determinismo Astrale Quindi Un pochino Devo richiamarti Sulla Cosa Dicevi All'inizio Dell'uso Che fa Pico Di Valla Sì È Vero Questa Relazione Non È Stata Non Si È Occupata Molto Degli Aspetti Astrologici Anche Perché Di Fatto Valla Non Parla Di Aspetti Astrologici Praticamente In Nessun Luogo Nella Sua Opera Quello Che È Interessante È Come Come Si Diceva Che La Sua Opera Viene Poi Ripresa Da Personaggi A cui Invece Interessano Gli Aspetti Astrologici Io Menzionavo Pontano Che Accusava Appunto Valla Di Aver Ispirato Pico Secondo Me È Vero Fino A Un Certo Punto Che Valla Ha Ispirato Pico Però Valla Ispirato Pontano Cioè La Critica Anti Astrologica Di Pico Tutto Sommato Si Regge Anche Senza Valla Mentre Invece Tutto Quella Tentativo Divolgere In senso Volontaristico Un Assunto Di base Di Determinismo Astrale Che Quello Che Pontano Tira fuori Da Tolomeo Che Vediamo Nel Derebus Celestibus Poi Ammorbidito Nell'Egidius Ammorbidito A sua volta Nel De Fortuna È Una Tradizione Che In Qualche Modo Deve Tenere Presente Valla Sia Per Quanto Riguarda La Questione Del Pironismo Vagliano Che Viene Tirato In Ballo Da Pontano Sia Per Sostanzialmente Impensabile Che Pontano Non Conoscesse Il Delibero Arbitrio Tra L'altro Venendo Dallo Stesso Ambiente Napoletano Per Cui Anche Questa È Una Questione Interessante Cioè Non Ci Sono Solo Delle Stranezze Nella Ricezione Di Valla Ci Sono Anche Delle Stranezze Nella Non Ricezione Di Valla Cioè Perché Pontano Dovrebbe Non Citare Mai Il Delibero Arbitrio Per Quanto Poi Riguarda La Questione Del Determinismo Astrologico È Chiaro Che Il Problema Si Può Porre In Termini Astrologici Nella Misura In Cui Tutta Una Versione Non Principalmente Cristiana Del Discorso Del De Vero Bono Sostituisce Le Cause Naturali E Quindi Gli Astri A Quello Che Pervalla È La Providenza Naturale Secondo Secondo La Visione Epicurea O La Providenza Divina Secondo Secondo La Versione Cristiana E Questo Fa Parte Un po' Di Quella Tutta Tradizione Tradizione Partire Da Coluccio Salutati In cui Si Tende Un po' A Mettere Insieme Providenza Necessità Astrale E E Quindi Dare Una Spiegazione Astrologica Astrologico Cristiana Per Qui Chiaro Quella Quella Valla Che si Poteva Leggere In Senso Di Natura Generale O Providenza Divina Poteva Essere Letto In Termini Di Causazione Astrale E Questo Forse Quello Che Pomponazzi Fa Nella Prima Parte Del De Fatto Quando Pensa Al Delibero Arbitrio Di Valla Tra L'altro Riprendendo Anche Quel Discorso Sul Dibattito Dialogo Tra Apollo E Sesto Che Ovviamente Gli Veniva Da Alessandro Originalmente Ma Aveva Anche La Mediazione Vagliana Alle Spalle Grazie Grazie Allora Ci sono Altre Domande Intanto Io sto Combattendo Con La Visione Qui Non Veo Più Niente Eccoci E Non So Se E Se Non Ci Sono Altre Domande Forse Siccome Io Tra l'altro L'ho Tenuto Poverino C'è una mano alzata Una mano alzata Allora io devo La mano alzata Camilla Sì Io ho una domanda Mi sentite? Camilla È video Così la vediamo È più umana La domanda Ho il video acceso In realtà Mi vedete No? Adesso Eccoci Ok Allora Io ho un dubbio Quindi per Valla Chi pecca Lo fa per errore Ma sta di star peccando O crede di agire nel bene Scusi Non ho capito Ha detto Chi pecca lo fa per errore Ma Ma sta di star peccando O crede di agire Nel bene Non lo sa Non lo sa Per Valla Non lo crede neanche Cioè Dipende Se Se lei intende Crede di agire Nel bene Nella misura in cui Cioè In Valla Non c'è una relazione Tra la razio Diciamo L'intelletto In termini di intellettualismo E la volontà Per cui Non è che La volontà Parta da una credenza Di bene O di male È tutto un processo Interno Alla volontà In cui la volontà Si pecca Perché viene Onfuscata E quindi Colui che pecca Non sa di peccare O Se ne accorge Troppo tardi Però Tutto questo Viene svolto Parallelamente Alla Alla razio E a questo punto È interessante Quello che dicevamo Prima Che Valla diceva Ma Se la razio Comandasse Alla Alla volontà Allora La volontà Non sbaglierebbe mai E a questo proposito Uno potrebbe dire Sulla base Di quello che dice lei Allora va bene La volontà sbaglia Perché viene Onfuscata Uno non sa Che sta sbagliando Perché tutto questo È un processo interno Alla volontà Però Coesiste Alla volontà Anche la razio E la razio Sa che uno Sta sbagliando E quello che Valla qui Non dice Ma che viene fuori Da tutto questo discorso È Una cosa strana Ossia Che le passioni Che albergano Nella volontà E che Offuscano La volontà Quando offuscano La volontà Offuscano anche La razio Se no A questo punto Non si reggerebbe Più in piedi Tutto Tutto questo discorso Quindi In verità Cioè Lui della razio Non è che proprio È un tifoso Esatto Lui della razio Questo è il problema Un po' di tutta La filosofia di Valla Che lui Si ritrova In mano Delle strutture Filosofiche Che gli vengono D'altrove Sia questo Da Aristotele Da Boezio Da Agostino Strutture filosofiche Che a lui Non interessano Per niente E con il quale Vuole Perseguire Un fine Suo Proprio E di solito È molto bravo È molto convincente A perseguire Il fine Suo proprio Però È ovvio Che perseguendolo Detto In maniera Brutale Pasticcia Anche Con quella struttura Che si è trovato In mano Per cui Nella dialettica Quando critica Tutta Per esempio Lui critica Tutta la Logica formale Che gli veniva Da Aristotele Boezio E via dicendo E fa Una confusione Enorme Tra l'altro Non conosce Praticamente Niente Della tradizione Dialettica Logica Medievale A parte Un po' Di Pietro Ispano E di Paolo Veneto Per cui Tutto il discorso È interessante Perché si vede Da un lato La volontà Di Valla Di seguire Un obiettivo Filosofico Che lui Ha ben chiaro E dall'altro La difficoltà Di seguire Questo obiettivo Filosofico Con delle strutture Che sono assolutamente Inadatte A quell'obiettivo Filosofico E in qualche modo Secondo me Questo è anche Il problema Di cui abbiamo parlato Del delibero arbitrio Di cui Parlavamo prima Anche A proposito Delle altre domande Cioè Valla Ha chiaro Qual è il problema E forse Ha chiaro Anche Qual è la soluzione Che vorrebbe dare Il problema Però Si 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 ritrova Infilato In una Questione In cui Esistono Già Delle strutture Filosofiche Che lui Deve Prendere In considerazione E Con 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 le quali Si deve In qualche Modo Giostrare Che sono Strutture Filosofiche Che a un certo Punto Lo portano Alla Fasia Finale Cioè All'impossibilità Di esprimere Quella Che la sua Convenzione Forse Filosofica E all'unica Possibilità Di dire Va bene Allora Non andiamo Oltre Perché Se no I problemi Diventano Maggiori Delle soluzioni Non so Se anche voi Abbiate Questa Impressione Del Libero Arbitrio Considera Che oggi Questa è una posizione Diffusa Per esempio Thomas Nagel Professore Famosissimo Ha scritto Che Di solito I problemi Filosofici Presentano Varie opzioni Tutti Moderatamente Plausibili Ma che lui Non conosce Nessuna Proposta Di soluzione Libero Albitrio Che sia Minimamente Convincente Quindi Oggi Questa posizione Non è Non è così Pergrina Quindi c'è Una rivalza Diciamo così Una rivincita Di valla Cento anni E Stefano Scarcella Forse Una domanda Se vuole Apparire Mi vedete Adesso Forse Si sta Eccolo C'è L'etifania Prego Buongiorno Anzi Buonasera Buonasera Professore Stiamo facendo Questa Riflessione Abbiamo Diciamo Ben Illustrato Attraverso La relazione Del professor Mori Diciamo Un pensiero Da un punto di vista Statico E non Dinamico In che senso Dinamico Nel senso Che La natura Dell'uomo Cioè La sua Inclinazione Ad essere Malvagio O non E La sua Possibilità Anche se Non conosce Il bene Di Cioè La sua Possibilità Anche se Non conosce Il bene Di conoscerlo Durante Il suo Percorso Di vita Questa Possibilità Di conoscenza Che non Non coincide Con Con quello Che è La sua Natura Può Cambiare La natura L'inclinazione Dell'uomo E anche se Nasce Diciamo Malvagio E poi Durante la vita Conoscere Ciò che è bene Diventare E scegliere Il bene Cioè E quindi Se parte Da un punto di vista Dove Il suo Libero Arbitrio E il suo Senso Razionale O la sua Volontà Doveva essere Soltanto Verso il male Possa invece Arrivare Ad una scelta Del bene In una Dinamicità Dove Il rapporto Tra natura E conoscenza Non ha più Quelle gerarchie Verticali Ma diventano In qualche modo Orizzontali Allora Penso di avere Capito Se poi Non ho Risposto Del tutto Me Lo Dica Mi Sembra Che il Problema Sia un po' Quello Di cui Parlavamo Prima Cioè È molto Facile Spiegare Come uno A partire Dal bene Possa Scegliere Il male E possa In qualche Modo Corrompere Una natura Che Originariamente Buona Per cui Uno Si sbaglia Viene Ingannato La sua Razio La sua Volunta Sono Fuscate Quello Che vuole In qualche Modo Si ingenera Un peccato Si ingenera Una scelta Malvagia Se noi Partiamo Dal presupposto Opposto Cioè Quello Che Diceva Lei Partiamo Da uno Che ha Una natura Malvagia È molto Più Difficile Giustificare Come si Faccia Ad arrivare Al bene Cioè Non Possiamo Rivoltare Quelle stesse Spiegazioni E quello Stesso Processo Perché Una natura Malvagia Vuol dire Una Volontà Malvagia Una Razio Portata All'errore Cioè Pensi Questo Di fatto È La forza Se vuole Di Agostino È la ragione Per cui Agostino Continua A entrare In tutto Questo Dibattito Cioè Agostino Dice Una volta Che Noi Abbiamo Una natura Malvagia Per via Del Peccato A questo Punto Non c'è più Nessuna Possibilità Di scegliere Il bene Rimane Una libertà Ma è una libertà Solamente Di Peccare In tante maniere Fantasiose E differenti Che è un po' Quello che dice Anche Lutero Se uno Toglie Dal discorso La grazia E via Dicendo Perché Perché Diventa Filosoficamente Da un punto di vista Diciamo Razionale Quasi impossibile Trovare Una soluzione Nella quale Una natura Di per sé Corrotta Si Automigliora Perché Non si capisce Proprio Da dove All'interno Di questa natura Possa emergere Un Aspetto Migliorativo Mentre Invece In una natura Buona È Possibilissimo Comprendere Dove Possano Sorgere Degli aspetti Peggiorativi Posso aggiungere Su questo Posso dire Una cosa Scusate Così È qui Il ruolo Della conoscenza Che dovrebbe Modificare Quell'inclinazione Naturale Malvagia Ad una Nuova Inclinazione Che Si muove Verso il bene Perché lo conosce Di pratica Quella stessa Natura Malvagia Cioè Lei conosce Attraverso Degli strumenti Che possono essere Degli strumenti Degradati Quindi La sua Conoscenza Sarà sempre Però Non so Volevi aggiungere Mario Può aggiungere questo Che mi sembra In fondo Un retaggio Del pladonismo Cioè Noi Il corpo Le passioni Le emozioni Tendenzialmente Ci fanno peccare Quindi È la volontà Che ci deve salvare Però Se la volontà È buona Il corpo Se la può tirare giù Ma se la volontà È cattiva Il corpo Non l'aiuterà mai A salire Verso il bene Questo mi pare Il punto Tra l'altro Lui è un volontarista Ripeto Quindi il ruolo Dell'intelletto È sempre subordinato Se la volontà È cattiva L'intelletto Non può fare niente Mica un intellettualista Etico Questo mi pare Che sia il punto Sì E tra l'altro Appunto Bisognerebbe Davvero Cioè Non solo Essere un intellettualista Etico Ma Per arrivare Cioè Bisogna arrivare A concepire Un intelletto Che in qualche modo È così dissociato Dalla natura Dal corpo Da Poter Non essere Influenzato Da una natura E da un corpo Malvagio Ma questo Se lei ci pensa È impensabile Non solo a partire Da Platone Ma anche Impensabile A partire Da Aristotele Qualsiasi conoscenza Deve partire Da qualcosa Che passa Attraverso i sensi E questo è poi Tutto il problema Anche Se vuole Di una certa Filosofia Relativa Alla scienza Tra Cinque Seicento Cioè Se La nostra Il problema È che I nostri strumenti Il nostro intelletto Ma i nostri sensi Sono inadatti A darci Una conoscenza Ottima O almeno Sufficiente Per cui si spiega Non solo Tutte le ricerche Su Come si fa Un microscopio Ma anche Tutti I trattati L'emendazione Dell'intelletto E via dicendo Perché dobbiamo Fare i conti Con il fatto Che Forse Anche Quella conoscenza Di cui parla lei È Corrotta Come tutto il resto Della natura Per cui non ci può Aiutare A migliorarla Perché In qualche modo Sono tutti Nello stesso calderone Ok Grazie Allora Ci sono La mano Sbaglio L'ho visto No La mano è di Stefano Che vedo io È di Stefano Non l'ha Passato Che forse Stefano Se può abbassare La mano così Vabbè Che non è che Giusto Otticamente Dà l'idea Non so Se ci sono Altre domande Posso aggiungere Una cosa Proprio A margine Di quello Che si diceva Proprio Su finire Di questa La risposta Di Mori Beh In fondo Quello che Va considerato Che C'è una Visione Naturalistica Dell'uomo Che deriva Dai temperamenti Costituzioni E dagli umori Che Da cui Non poteva Prescindere Valla Non poteva Prescindere Nessuno Dei suoi Rettori Quindi Qui appunto Corpo e mente Si unificano All'interno Di un processo Di carattere Potremmo dire Puramente naturale Sostanzialmente naturale Senti Antonio Allora chiedo A te forse Ma questo Poteva essere Sganciato Dall'idea Che l'equilibrio Degli umori Dipendesse Dalla situazione Astrale La nascita E cose del genere Questo è oggetto Di ampio dibattito E non è certo Non ci sono soluzioni Uniche Su questo Perché appunto Pare che Valla Proprio Si disinteressi Dell'influsso Astrale Come diceva Giuliano Quindi Ovviamente Qui La costituzione La composizione Degli umori Certo Hanno anche Di dinamico Anche queste Ma Una dinamica All'interno Di un pattern Già stabilito Che Ci sono Dei vincoli Molto forti Tra l'altro Un commento Proprio anche questo Quando si diceva Che Sesto Terquinio Ha preso Dal latte Materno La superbia Che lì Un forte vincolo E Alla fine Insomma Un condizionamento Naturale C'è anche lì Certo La genetica Se non ci sono No Stefano Ha rialzato la mano No Sempre la stessa mano di prima La stessa mano di prima Ho capito Allora Se non ci sono altre domande Ringraziamo di cuore Giuliano Mori Per questa ricchissima presentazione E anche per aver Brillantemente Risposto alle nostre Ferrate domande Grazie a voi Grazie a voi Grazie ancora Finiamo anche il nostro Breve ciclo Su Libero Arbitrio Astrologia Finiamo nel modo migliore Cioè dicendo che Non si capisce Ce l'abbiamo Per arbitrio Una politica ovviamente Di dove Una politica Che secondo me Molto onesta E Io personalmente Vi ringrazio Ringrazio ancora Giuliano Ringrazio Antonio Per aver coordinato con me Ringrazio tutti i partecipanti Presto e buone feste a tutti Grazie mille Arrivederci a tutti Ciao Ciao Grazie Arrivederci Arrivederci Grazie a tutti